così si fa forza forza ai giovanni alla testa non è mai continuo conti la schiena addome contratto è meglio sale di più con le braccia quando scendi sali sali che ti aiuta un pizzichino perché le sorelle si allontanano sempre di più controlla le gambe luca sempre forza sì 15 e 15 mi manca il tuo buono vai di marielena un sorriso marielena un sorriso guardate com'è bene